Gennacaro, dunque l'esito delle consultazioni che avete fatto con Alessandro Urzi è sostanzialmente un 2D picche. Io a Alessandro Urzi ho posto in streaming una domanda ben chiara al quale non abbiamo ricevuto risposta. Noi abbiamo chiesto che intenzioni avessi Urzi nel caso non riuscisse a diventare sindaco della città. A questa domanda avrei avuto una risposta convinta da parte del consigliere Alessandro Urzi dicendo che sarebbe rimasto in consiglio comunale a Bolzano per difendere gli interessi dei cittadini della città di Bolzano. In realtà la risposta vaga di Alessandro Urzi fa capire che lui comunque il giorno dopo tornerà in provincia e di conseguenza questo per noi non è un modo per poter indirizzare i nostri elettori verso Alessandro Urzi. È un discorso di coerenza. Noi abbiamo costruito una lista civica che punta a migliorare la qualità della vita dei bolzanini, quindi la città di Bolzano in primis e di conseguenza chi si prende quell'impegno deve stare a Bolzano e deve stare in consiglio comunale a Bolzano sia che vinca sia che perda. Questo è stato l'unico punto che vi ha fatto dire di nuovo ad Urzi o c'erano altri punti con cui non vi trovavate d'accordo? Gli altri punti sono quelli generali per cui noi non possiamo dare l'appoggio né a Urzi né a Spagnoli, che è quello di capire qual è la visione reale di città per i prossimi 5 anni. E la visione reale di città per i prossimi 5 anni la si può conoscere soltanto rispetto alle maggioranze che si vogliono andare a formare in consiglio comunale il giorno dopo il voto, il giorno dopo il ballottaggio. Cambia molto rispetto ai partner che uno e l'altro intenderanno raccogliere per poter governare la città, quindi senza programmi su quali basi io devo dare l'appoggio a uno o all'altro candidato. In questi giorni si parla molto di ballottaggio, secondo una sua idea a tutti gli effetti è sensato o non è sensato andare al voto nonostante si sappia comunque di un esito scontato, viste qual è la maggioranza in consiglio? Ma allora io credo che di scontato non c'è mai nulla in politica e l'abbiamo visto anche a queste elezioni. La cosa chiara che noi, io sto con Bolzano diciamo e stiamo ribadendo questa mattina, è quello che per noi è importante andare a votare. L'abbiamo detto da sempre, l'abbiamo detto all'inizio, andare a votare è un diritto importante che bisogna in qualche modo fare, quindi per noi l'invito che facciamo è quello di andare a votare, l'esito non è mai scontato, è chiaro sarà molto difficile trovare una maggioranza in consiglio comunale sia che vinca Alessandro Urzi sia che vinca il sindaco Luigi Spagnoli. Quindi quelle sono considerazioni che verranno fatte poi a posteriori, ma noi diciamo, a differenza degli altri partiti, è importante andare a votare. Vincesse Alessandro Urzi non c'è il rischio di replicare un 2005 con quanto accade con Giovanni Venussi? Ma quello è sicuramente possibile, ma allo stato attuale anche se dovesse vincere il sindaco Luigi Spagnoli il risultato potrebbe essere lo stesso, quindi questo secondo me non è un alibi per dire alle persone di non andare a votare, le persone hanno il diritto e il dovere di andare a esprimersi il 24 di maggio ai seggi elettorali, sperando appunto di non avere poi confusione ai seggi come nella precedente volta.